Per la gara di domenica contro il Monza di Palladino e del Papu Gomez, che ha debuttato l'unico scorso contro il Sassuolo, Paolo Sousa spera di recuperare diverse pedine. Ochoa, Cabral, Pirola e Maggiore, che ieri si erano allenati con qualche cautela, oggi sono allenati regolarmente ed hanno smaltito i rispettivi problemi. Buone notizie anche per quanto riguarda Candreva e Lassana Koulibaly, che si sono allenati a buon ritmo. L'ex Samp sarà sicuramente a disposizione. Il centrocampista Magliano proverà ad accelerare i tempi. Insieme allo staff medico si valuterà l'opportunità di anticipare il suo ritorno in gruppo già per la gara di domenica. I quei mesi tornerà dopo la sosta. Simi è tornato ad allenarsi negli stessi orari della prima squadra, ma il ritardo di condizione lavora a parte. Paolo Sousa alla ricerca della svolta e sa bene che in Lombardia sarà necessario conquistare punti. In trasferta, la Saritana ha ottenuto un punto a Roma per poi perdere a Lecce ed Empoli. Granata hanno fornito prestazioni sempre meno convincenti, lontano da casa e domenica se la vedranno con una squadra che ha ottenuto una preziosa vittoria esterna nello scorso turno di campionato. Il Monza ha trovato il gol del suo centravanti. Colombo si gode della crescita di Colpani. Palladino ha perso Craparari, ma ha appena accolto Gomez, che ha esperienza e classe da mettere al servizio di una squadra che punta a salvarsi senza grossi affanni. Contro il 3-4-2-1 del Monza, Sousa dovrà decidere se proporre un atteggiamento speculare e quindi tornare allo spartito principale o dare continuità alle variazioni sul tema proposte contro l'Inter che, per oltre un rigioco, hanno dato risposte interessanti ed incoraggianti. Daniel, che offresco di convocazione da parte del Città dell'Austria, sarà riproposto in difesa e potrà essere una pettina preziosa per la sua capacità di disimpegnarsi sia da centrale sia da terzino. Ghiomber, Lovato e Pirola si giocheranno a due maglie. Braver c'è l'unico terzino sinistro di ruolo, ma il suo rendimento finora non è stato in linea con quello della seconda parte della scorsa stagione. Sousa valuterà eventuali soluzioni alternative. Una di queste potrebbe prevedere lo spostamento sulla fascia di Pirola. Con il ritorno ad un più definito 3-4-2-1 invece, da quella parte, le potenziali alternative al Croato sarebbero Mazzocchi e Castanos. In mediana, conferme per Boine e Legoschi, Martegania girà qualche metro più avanti. Da valutare il minutaggio che potrà garantire Candreva, Cabral e Dia sono pronti a dare il loro apporto in prima linea. La serenitana in trasferta ha segnato solo all'Olimpico, dove la doppietta di Candreva fessò il punteggio sul 2-2 finale. All'Eccedempoli, Granata si sono fermati ai pali, colpiti da Cabral, ma in Toscana la prestazione fu del tutto negativa. A Monza bisognerà trovare equilibrio fra le due fasi di gioco ed anche continuità sul piano fisico e mentale. Contro una squadra che regala poco o nulla sarà soprattutto la serenitana a non dover regalare nulla.